Bisogna studiare con il metri di sala tutte le tempistiche che ci sono durante il matrimonio e quindi quante portate ci sono, quali sono i tempi per far sì che non ci sia nessun accavallamento tra intrattenimento musicale e cucina, perché se no il rischio è che tu paghi tantissimi soldi per far vivere un'esperienza culinare di un certo tipo al tuo ospite, ma se il musicista fa partire il trenino all'uscita del primo il rischio è che l'ospite o mangia freddo o arriva a tavola e la portata non la vede proprio e quindi vai a distruggere anche quella che è l'esperienza culinaria.